... persone che chiaramente le devono incarnare, è ovvio, però le dico, Formiglie e De Bortoli, che in questo paese, sulla logica del consenso, tutti sono scesi a compromessi, pur di non perdere una poltrona, sono scesi a compromessi con le loro coscienze in primis. Noi a quarto diamo un segnale a quarto comunque alle mafie, volete provare ad infiltrarvi? Noi rinunciamo pure a una poltrona al comune per darvi un segnale che la mafia è una montagna di merda, e scusate l'espressione. Alla francese.